ciao a tutti ragazzi io sono manuel ma potete chiamarmi semplicemente ala e sono qui in compagnia dei nostri amici di jimba ciao ragazzi siamo come vedete tutti gli amministratori di jimba per un'edizione molto speciale di quake live vedete questo è quake live penso che il nostro cameraman si sta guardando intorno e è un'edizione molto speciale perché a differenza delle altre parti di quake live questa noi non faremo altro che morire per tutto il tempo perché raccontaci un po lego secondo te come mai moriremo tutto il tempo ma non so qua sembra di avere conto un individuo con un certo nome esterni ma non è lui vero no no ciao ragazzi allora come vedete beh come penso avrete notato dal titolo sterni si è prestato per questa partita diciamo in parte promozionale per quake live in parte una partita for fun in cui ci dimostrerà che beh l'abilità in questo gioco conta un bel po noi giocheremo in quattro contro di lui e dovremo cercare penso di ucciderlo almeno una volta io me lo pongo come obiettivo dai almeno due volte non lo so cosa ci decidiamo come obiettivo qualcosa del genere dai e facciamo partire cosa dite si direi che facciamo partire ready ready ok ho tanta paura ma va bene si bravo voglio dire che sterni ci ha promesso in caso riusciamo a vincere un tappetino da gaming per ciascuno da prometterci una porsche però uguale che era un legito finale vai quindi sta startando 7 6 comunque secondo me il play for fun sarà solamente per lui perchè noi è play for rosic ok no è play for for survive però dobbiamo avere un piano secondo me il nostro piano è campurato ha preso l'armatura rossa secondo me ma lui ha già preso tutto la domanda cos'è che non ha preso ecco i tuoi di me mio dio non ci ha lanciamissimi ma qua qua lato 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 stai qui no dov'è 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 ma forse stanno mucchiati non so se facciamo un favore o se oh oh credo non è l'altro e non speratevi tre di voi no ti ho ah ok dov'è 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 l'avete visto no ma stiamo vicini no ma stiamo vicini che vi è già bello un stragnone e qua la rossa la rossa la rossa la rossa la rossa e di nuovo qui mi spero vabbè è stato divertente finchè dov'è 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 qua qua accetto l'arena oh cazzo andate ragazzi quanto è malissimo io vi vorrei ritrovare dai terzi la stiamo già mettendo sotto pressione è sotto pressione quanta vita ha? che cazzo magari 100 però i quad damage tutti via tutti via i quad damage i quad damage fuga nascondetevi di angolo mi hai bloccato albi oh no no c'eravamo incastrati eh si sono incastrato su albi no ero riuscito a prendere il lancio e prevedo nascondeteli un cento zero che oh avrà finito il quad damage ammattiamolo no no vai colpiscilo colpiscilo ragazzi ci serve un piano io voglio dire no 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 ma lo stiamo sfiancando e noi siamo in diga iniziamo con calma e poi guarda vi facciamo vedere di cosa non siamo in grado di fare mi so se ci starmi ci sei io sei contentissimo ci sono ci sono sono super concentrati eh immagino immagino non è facile siete tanti siete ah ma tanti scassi io mi rilluso se avevo l'arma buggata oh oh sono riuscito a schivare due raid di fila di ster ok osservi ma parlaci di questo shaft noi ne parlavamo giocando ma non è buggato cioè secondo me è troppo forte o no? eh certo lo shaft è molto forte ma è una delle armi migliori in quel gioco ma quindi conviene camperarlo e cercare di prenderlo lo shaft è quella specie di lampo l'arma lampo un'arma che si può usare da medio eh medio raggio e niente è una delle armi più forte del gioco ci vuole veramente ma sarebbe sarebbe la lg lg esattamente credo che ve la siete presa quasi tutti quanti oh oh è qua dove c'era la rossa si 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 ma che cazzo dov'è dov'è che sta scappando e qua dove spuona l'armatura rossa oh a me basta non essere quello con più morti apposta vai lego l'ha preso oppure no? lego in negativo nel dubbio si perchè mi sono suicidato in compenso non gli ho dato la kill è vero bombardiamolo a tutti aiuto ti mettevi un razzo per suicidarvi ho un paura al momento sinceramente ah no questo è un po' scusami leggo continua a sparare illudici quanta vita hai e perchè se pseudo verde 100 c'è l'ha visto l'ha visto chiara lo ha quindi chiara ma dai lo fate lo fate lo fate lo cazzo dai si è morto è morto? no si è auto ucciso piuttosto che da arce l'ha pensato perchè ho ucciso uno e poi automatica oh avete il quota attenzione eh si peccato che con un colpo mi è ridotto a 15 non ho capito bene uccidendo uno praticamente era salato io ero salato sì se ne ho credo fosse salato c'era il quota di fianco ho cercato di uccidere tutte e due Sì, c'ero io, infatti poi ho preso il quad Siete arrivando tutti, ho paura, veramente Vai, vai, vai Vai, vai, carica, carica Che palle Un po' scappare Non c'è speranza quando ha il laser in me Oh, ma siamo 29 a meno 1 Per colpa di regolo L'obiettivo è stare a zero Oh, ascolta Non state in quel posto di che lui dall'alto vi fotte se Soltanto in piano riusciamo Io voglio lanciare missili Oh, è qua, è qua, è qua, è qua Io ho bisogno proprio dell'arma che era ambuzzi in questo momento A posto Oh, a posto, l'hai ricaricata Aspettavo solo quello Oh, ma dite che l'ha già tirata la mob Sì Oddio, cosa mi colpì? Ma che cacchio ne so Se ne faceva una doppia Lego, Lego, vieni con me Allora, io ho 20 HP Ah, ok Io ti copro, io prendo i colpi Dove c'è l'armatura rossa Di nuovo No, no, scusa Ho deciso albiter Siete a meno due ragazzi E vai, non è facile, non è facile Quindi anziché c'erano zero Comunque mi rendo conto Il problema di fondo È che non abbiamo mai art Cioè, io sono sempre con la mitraglietta Ovviamente se avessi i lanciamissili Sarebbe tutto un altro facendo Io mi sto Ora mi sono spostato per bene In modo tale che possa Prendermi a me Ho i lanciamissili Io moro stupro Uniti, uniti L'ho colpito, l'ho colpito un po' Un po', eh Un po', un po' Un po' Ma il problema è che ci sono troppe Cose per la vita in giro Troppi health Il pack Dov'è? Dai cazzo, dai cazzo, dai cazzo Dov'è? No, 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 no Avete preso il quad? Siete... Sì, sì Quanta vita avevi? È troppa, sicuro Dietro, dietro, ambo Allora, se uno di voi è a Reagan Basta beccarmi una volta con il quad E io sono andato Eh, peccato che beccarti a te con Reagan Ho la cazzo, ho la cazzo Cioè, Alberto, continua a fraggarmi col quad Io non ho parole, cioè Senti, chi cavolo siete, io Ascolta, ma io almeno ce l'ho Qua da me, qua da me Con una chiavetta internet Da 2000 metri sopra il livello del mare Voi... Noi siamo tutti blu Devi uccidere quello vero Come fate a colpirvi tra di loro? Garapialdi, ho Una salta Sì, sì, uno verde florescente Conte a 40? Deve arrivare a 100? Siamo a meno 3? Ah, è vero perché ho ucciso di nuovo albi Ho bisogno di armi assolutamente Io sto andando in giro con l'altra gravata Andiamo in giro solo con le mitragliette, non riforniamo Decidiamo una cosa L'ultima la devi fare col corpo Eh, vabbè Gli ultimi 15 facciamo Le ultime 10, perché dire l'ultima sarebbe troppo facile Oh, è a 100 mappe 100 mappe, che mi sta picchiando malissimo Ma che cosa vuole? Sì, vabbè Uno vuole andare lì per saltare E muore Eh, mi state facendo male Eh, ce la facciamo Io ci credo in quest'unica chiave Ma anch'io ci credo Dobbiamo giocare di squadra Dobbiamo giocare di squadra Ma tanto anche se avessi 100 È a posto Sono morto carino È a posto, meno 4 Ma la speranza di finire a 0 è sbagliata Oh Sto buendo col copacolo Vabbè, ma non è giro Oh, l'ho preso con razza Corazzo, corre No, mi sono suicidato anch'io, scusa Vabbè, una volta per uno Ambu tocca a te Solo Ambu è a 0 Evidentemente il panico di giocare contro D.L.B. porta a suicidare Eh no, ma aveva preso quel laserone Un quad, un quad Prendi il quad Prendi il quad Mi ha ammazzati Sì, si sente Non ce la fa più Non ce la fa più E' morto da solo tirandomi un razzo addosso Non lo farò Oh, ogni volta uccido uno Piuttosto che lasciarsi uccidere Dovevate colpirmi Ecco, ora per esempio Uccidono Eccolo Ecco Oddio, l'ho fregato, l'ho fregato L'ho fregato Sono un cazzo di mostro Sono un cazzo di mostro Ho preso, l'ho preso Mi ha ucciso col pugno Sì, è senza armi, è andato a prendere il laserone No, cos'è? Ah no, è lanciamissimi Io sono un cazzo di mostro Ma ne hai missato uno di lanciamissimi Eh, la no Eh, di nuovo è rotto Così farei un'informazione gratuita È la sua... La sua zona Quanto stiamo? 51, oh, dobbiamo resistere Oh, metti qua dietro Scusa Oh, io mi sei messo in mezzo Sì, stiamo ai quattro angoli, magari Cioè, praticamente Avete fatto le tattiche, no? Non dovevo fare il fare Guarda Cavolo Io ti dico soltanto che sei fortunato Che ho tirato Ho tirato una lacca per prima Sennò Ambu è a uno Che ingiustizia Mi è quando uno è forte È forte Eh, cazzo Infatti, guardi, io ora seguo Ambu Qua, 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 qua Vicino all'armatura gialla Ambu, Ambu, l'hai visto? Sto arrivando dall'armatura gialla Eh, cos'è? Era da lanciamissile adesso? Adesso in mezzo Allora Tu sei fortunato che ti ho laggato proprio in quel momento E se no, sai cosa ti faceva? Sei fortunato Lasciamo il pompa che non ha Ma hai detto Però è buono questo 59 a meno stress Stiamo resistendo, stiamo resistendo Io ho punto sulla durata questo Però l'abbiamo uscita una volta Ormai era durata Sì, l'ho usciso Cioè, avevamo in 5 che sparavamo, però Vabbè Aspettai Dai che fai tu, dai che fai tu Sì, sì, sì Ci avrà pochissimo, ci avrà pochissimo Continuate Scappa, uno di vita Non c'è Non mi metti, sei No Come hai recuperato? Dove è? Perché ha preso un health pack Ha preso un health pack Sto scappando alla grande Sto effetto, dove è andato? Ma non so Io stavo aspettando che uscisse il quad E qualcuno è scendato sopra Ha proprio a caso L'ha preso mentre ci stava sparando Ma hai fatto un male Aia Me ne scappo, ciao A caso Ma questo? Come... Ma com'è? Ma cosa sa fare questo? No, no, devi morire Che c'è la sua spazio Io ho spaventato Da seconda chi? Ho perso da nulla Ho uno di vita, ragazze Ciao E non ti riesco a prenderlo stesso Ho bella solata E non è vero che uno di vita C'è un buccio E non è vero che uno di vita E non è vero che uno di vita C'è un buccio E non è vero che uno di vita Dieto dieto lego Dieto dieto lego Dieto dieto io guardo dieto Non c'è niente dieto OALCO qua io c'ho un utile questa è stata proprio brutta forse se prendo la rail riesco... oh che cazzo no, ho ucciso io potevate essere a uno ragazzi, il problema è che vi state uccidendo a vicino eh, io sono l'unico che vede di non uccidersi a vicino io... oddio perchè ti ho fatto? io se ho dato un po' sbagliato io avevo veramente poco se... avevo 60 e... 29 io sti sicuro sono il best dps della squadra sono erostamente una più in difficoltà no, io non lo riesco mai a colpire, è proprio un dramma l'errore principale è stato attaccare il code un pochettino prima perché mi siete messi tutti quanti lì al centro si, vabbè apposta l'e... l'e utilissima armor ma comunque quello shaft è qualcosa di fuori dal mondo aaaaaaah no, è quota, è quota, scappate, scappate eh sì, ho 40 di vita, fotte, va bene eh, hai preso la matura rossa, preso la matura rossa la fai facile, la fai facile si, vabbè non vuoi shottarmi così velocemente apposto ah, perché però è quota adesso apposto ce l'ancora, no? si, si, ce l'ancora, lo giuro spawno laser morto spawno laser morto ore con due missiloni ve lo giuro, ve lo giuro, si laser morto è qualcosa di bellissimo oh, allora ce lo prometti, l'ultime... quante ne vuoi fare di kill? vai, 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 insistiamo sì, insistiamo, ma avevo... ma quando che finisce quando c'è un gap di 100? 100, credo allora c'è già un gap di 100, in teoria tra due kill allora l'ultima kill di arma di mischia quindi l'ultima, adesso arma di mischia, in che senso? eh, lui no perché magari recuperiamo no, allora deve arrivare a 100 proprio, non in gap di 100 eh, ma sai che forse è l'ultima è questa, ragazzi ok, allora vai di corpo a corpo noi ci crediamo vai di corpo a corpo? se non ti fai lo multiple, vai di corpo a corpo ma come faccio se prende 100? ancora impossibile beh, non l'avete giù perché tutta la battura vedi giù perchè lo spawn? no, 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 no eh, però non è finita mi ha posto a posto, non è finita no, ma comunque devi usare questo l'avete ucciso? ormai no, però nel doppio leggo mi ha ucciso sì, ma tu fassi in mezzo, lanci un missile cos'è, devi spostativo per sinistra ah, per dare il punto di vantaggio, l'ha fatto a posto perchè gli dispiaceva ma non ho capito, non ho capito, aspetta mi state sparando tutti, non capisco l'ultimo l'ultimo deve essere quella se non arriviamo a 100 continuo ad andare avanti con le... ma vai avanti con le armi normali chi se ne frega tanto tanto non è che il risultato cambia eh sì sì, ma tanto cosa siamo? abbiamo fatto 3 minuti finora magari la faccio l'ultima faccio la seconda per la nostra squadra vai Amu, io seguo vai, ho trovato un lanciarazzi vai 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 vai, ora qua prendi lo shaft prendi lo shaft ci vai lo shaft oh, secondo me oh, t'ho preso eccoeeh ho ucciso il doppio laser oh, ve lo giuro, ve lo giuro due volte di fila con il laser quanta roba, basta posso morire felice adesso suicidiamoci fino alla fine però sei ancora mio 1 eh lo so perchè mi son suicidato cioè o no ho ucciso Albi mamma mia sto doppio laserone che cazzo ma colpito se ogni tanto no, ti aggiri colpito vai tutti insieme tutti insieme quanti cavolo siete? no quanti passano Albi perchè non spawn? ma lanciamoci fragged by legofax fragged by legofax questo è l'ultimo eh è l'ultimo, vai crediamoci norma quando mi sono arrivati all'av shortcuts occhi albi deve avere poche capito e mi chanatote al rosso tessate non vuoi troppo capita buscott oddio mio nonچal 15 16x ti devo andare a rarcare la sua mariscia chiave da lontano no no, non puoi sparare no, è l'armatura facile sparare a lontano, sono tutti buoni dai, esistiamo, dobbiamo è quasi morto, è quasi morto occhiamo che sono detto di vita sono messo maligno la facciamo a creare fino ai 20 minuti, è il nostro obiettivo, ragazzi mi sa che ha ripreso un'altra armatura, nel dubbio no, seguendo aiuto, aiuto scappate, scappate sono tornato a zero, cazzo di pro è impossibile anche per noi è impossibile è una cosa reciproca ok, ok, allora cercherò di concentrarmi ma sì, tanto mancano 5 minuti secondo me 5 minuti ce la fa benissimo allora, te lo dico, io ho 9 HP eccolo, l'ho fatta però non è finita vabbè, dai, falla normale guardate, ragazzi, niente mercy limit, qua bisogna giocare serio avete preso il corte, l'ho preso il corte l'ho preso io è andato, avete visto dove è andato? tra l'altro io l'ho vista, ma l'hai preso al volo? sì, sì, l'ho preso al volo col missile? no, no, con il gambler ah, sì, sì, l'ho preso al volo ma questo è stato un babbo, gli sono andato addosso non troppi pochi minuti perché non sapevo, cioè, immaginavo che fossi da rossa, però no, mi è finito il coso ora non mi è, tu me l'hai detto che ti riesco a fare ok, cazzo, sono vostre ste granate? tanto fanno male in corso scaso ma da questo è sempre lì all'armatura rossa ma da qualche parte no, eh no, ma non hai capito che lui è dappertutto? sì, no, ma continua, ogni volta che vedo qualcosa, lui c'è tengo il tempo dell'armatura rossa in modo tale che la prendo poi vado da un'altra parte ogni quanto spona, ogni quanto spona dacci voi, 25 secondi ah, che provo e anche del corte di sei bravo a giocare, non si, non si giocare a livelli alti non si, non si provate e io sto sparando, non credo, c'è un rotellone inutile, tu gli spari ma lo puoi anche accarezzare ma io lo lanciamissimo, sembrava, ugualmente inutile ah, allora cosa che mi ha spinto? io che ti ho sparato un razzo perché ti sei suicidato davanti a me mentre lo stavo, tipo, stuprando, credo ma tanto è già, è già che ha più di 100, perché non ha vinto? cerchete di prendermi con l'Azerone credo che non ci sia nessun mercy limit ah, nessun limit ah, io secondo me il server vuole di riferirci mercy limit mi piace come parola proprio sì, esatto, mercy limit è proprio la parola il limite della pietà oh, virtualmente abbiamo 1-0 nel punteggio faccio sì abbiamo fatto una ghiacina di qui nooo, mi sono, mi sono uccidendo, sono tornato a zero per il mio scarso oh, fatti uccidere, fatti uccidere vabbè c'è il laserone tonderoso oh, finalmente lo faccio a prendere un quad senza essere oddio dov'è, 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 dov'è non lo faccio al quad, stai lontano, non ti avvicinare se ci mettiamo tutti magari ma che cosa c'è? ma dov'è la laserone? ma dov'è la laserone? sì, ma mi hai beccato il piede mentre saltavo eh eh ah, sì sì, vabbè, lo shaft col quad vabbè, tutti addosso eh sì tutti addosso, one shot, one shot oddio mi... mi... mi ho fraccasolato nel dubbio ah, e ne sei tu che mi ha ucciso neanche lui? cos'è? dai 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 cazzo dobbiamo disabilitare il fuoco a nico e rendere le cose più... oddio, l'ho uccido, dammi tutti, l'ho uccido in volo, l'ho uccido in volo oddio, l'ho vista in diretta, io anche ho rubato il ruolo, la beffa eh, la beffa ti ricordo, Amu, che prima di ciò ha più o meno 15 morti e io, Alpi e Angu, l'hanno un po' smezzato, però non sape niente sono senza armi, tanti di voi vai vai vai, carica! no, c'è, va, dov'è, dov'è è sotto, è sotto io ci credo, io ci credo no, volevi la rossa, eh, la volevi in certa età volevo, e anche ta non ho più niente, né armi né vita, sono messo malissimo dov'è, 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 dov'è? l'ho matto con il rotellone sta scappando dove cazzo sta? ha preso la gialla è sotto dove c'è il pompa sta correndo in là non sto seguendo, ma probabilmente è inutile che mi seguo è andato verso la rossa ok, ok, l'ho visto, lì sta ooooooooo l'ho dato lì è proprio una cazzata andarsene se li rubiamo tutte le armi lui sta sempre sul rotellone forse... oddio, quel cazzo è lo giusto forse... no, forse è un cavolo andate, 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 andate dai, ma come cazzo hai fatto? dov'è? ma c'è il pompa nooo, me l'ho rubato è sempre in migliaia si lo ti diamo modo mi devo allenare di più non sei in allenamento non sei in allenamento non sei in allenamento non sei in allenamento 3 di vita bravo, bravo ma cosa vuol dire che avevo 3 di vita? hai visto? si, si colpire a casa la gym e so ma no, stavo sparando e te ti sei messo in mezzo ne ha posto non mi dispiacerebbe avere un'arma normale se... allora mi fai muovere maledetto dov'è? dov'è? era dal rosso, era dal rosso ma gliel'avevamo già rubato però forse ormai è spawnato di nuovo no, penso che l'abbia appena provato perchè sta sempre lì? no ma come cazzo fa? camper, è un camper l'abbiamo scoperto no, ho preso la mattura rossa come vi ho detto è stato lì oh, oh 137 minuti e non è un caso che il numero è 137 eh? non è un caso Elite mamma mia, tra l'altro, tra l'altro mamma mia ragazzi bene, direi che dopo questa dimostrazione di... boh, penso che potrebbe essere considerata, boh, violenza in diversi stati, tra cui la California, il Nevada, vabbè e direi che è tutto ragazzi cosa facciamo? salutiamo? io vi saluto intanto, dai passo la parola agli altri allora lasciate un bel mi piace come al solito i chat 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 e vabbè poi facciamo salutare anche Sterni ovviamente grazie mille ragazzi come al solito sempre molto divertente e nulla, volevo dire solo una piccola cosa velocemente che il mercoledì questo lanciamo un mini programma streaming sul gaming e l'e-sport in Italia quindi è una cosa ovviamente un pochetto più di nicchia sulle competizioni e tutto sulla... verrà messo in diretta streaming su Twitch.tv slash Sterni e poi dopo su YouTube sul mio canale la registrazione la registrazione esattamente youtube.com slash Sterni TV ok? e grazie a tutti quanti per avermi seguito la prima intervista con Gimba è andata veramente bene e volevo ringraziare anche tutti i ragazzi di Gimba Network per il supporto e ovviamente per quello che abbiamo fatto con le interviste prima e anche oggi è sempre un piacere lavorare con voi perfetto è un piacere nostro che tu ti sia divertito più di noi in questa partita mi sono divertito sembrava di sparare boh è una cosa invisibile però vabbè ti ringraziamo di averci bastonato è stato un piacere quando vuoi noi siamo qua non vuoi la vincita perchè io me la sento che la prossima partita farò uno score maggiore di 0 oh oh tra l'altro tra l'altro due mesi due mesi di allenamento fra due mesi ci rincontriamo facciamo sfida numero 2 rematch e noi usiamo solo lo shaft senza con le munizioni illimitate una cosa equilibrata una cosa equilibrata va bene va bene dai ok direi che gli altri devono ancora salutare direi a ciao a tutti vai tu lega ora un salve a tutti gli altri un salve a tutti gli altri eh beh bisogna essere educati bisogna salutare tutti dai ringraziamo ancora Stermi ricordatevi che il suo canale youtube è quello che vedete qui linkato sul video il suo canale twitch lo vedete in descrizione e andate a vedere la streaming come vi ha detto e seguite jimba network se volete sempre avere news sui video che facciamo iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao